il principe harry ha diviso le opinioni con le critiche a suo padre mentre la famiglia reale continua a piangere la perdita del principe filippo il principe harry ha diviso le opinioni con il suo attacco costante al principe carlo durante un periodo di lutto per la famiglia reale in recenti interviste il principe harry ha detto di sentirsi veramente deluso dal principe di galles e ha criticato le capacità genitoriali di suo padre daisy mc andrew collaboratrice di royal dell mbc ha affermato che la reazione alle interviste del principe harry è stata divisa in quanto alcune persone sentono che è andato troppo lontano costantemente picchiando il principe carlo che ovviamente è lui stesso in lutto per la morte di suo padre ha anche detto alcune persone dicono ovviamente che gli è permesso parlare dei propri sentimenti ma allo stesso modo quando parla dei propri sentimenti porta sempre con sé altri membri della famiglia reale in particolare il suo rapporto con suo padre il principe harry ha inizialmente parlato della relazione tesa con suo padre durante un'intervista di due ore con la conduttrice di chat televisiva opera winfrey a marzo ha anche affermato che suo padre e suo fratello erano intrappolati all'interno dell'istituto e non potevano andarsene venerdì scorso la nuova docchiuserie del principe harry teme you can't see che è stata coprodotta con opera winfrey è stata presentata in anteprima su apple tv più e ha rivelato ulteriori tensioni con la famiglia reale il principe harry ha parlato di nuovo della sua relazione con il principe di galles e ha criticato l'incapacità di suo padre di proteggere i suoi figli dall'intrusione dei media che hanno subito durante la crescita ha detto a opera mio padre mi diceva quando ero più giovane diceva sia a william che a me beh per me era così quindi sarà così per te ha detto che un sacco di dolore e sofferenza genetici vengono trasmessi e che desiderava interrompere quel ciclo in modo che i suoi figli non sopportassero alcun dolore che aveva sofferto durante la sua infanzia